...civile litiga in fatto nuovo il discorso alla nazione di Vietà, altro che un chieto e il colonnello Trini Morghi, che è quello dell'imparato presenziale della parte di cui bombardata dagli americani ormai 25 anni fa e dice che si tracciò la rivolta e inoltre accusa solamente anche i servizi pretenti stranieri che avrebbero armato i rivoluzionari i rivoltori, le accuse specifiche agli Stati Uniti e anche all'Italia che avrebbe fornito razzi agli insorti di Belgrade, un'accusa farne di Canada, ma un'accusa che è stata spiattellata in questi stessi...